no non mi sono dimenticato che a quest'ora devo girare il video ma sinceramente non avevo la faccia di propormi di nuovo a te nuovamente annoiandoti con un problema di sicurezza però mi sono ricordato di un insegnamento che mi ha dato uno dei miei maestri di informatica che mi ha detto che quando almeno tre testate di settore riportano al primo posto della prima pagina la stessa notizia significa che si tratta di qualcosa di grosso e come vedremo a breve ben più di tre testate hanno riportato la stessa notizia di che cosa si tratta riflettiamoci insieme il programma a cui diamo il maggior potere nell'ambito del nostro sistema è proprio l'antivirus ebbene a quanto pare c'è un malware che è riuscito a ritorcerci contro i poteri del nostro stesso antivirus in modo tale da farsi strada nel nostro sistema e riuscire a imperversare indisturbato ci dobbiamo preoccupare assolutamente no però dobbiamo conoscerlo e imparare a proteggerci e allora non perdiamo tempo andiamo a vedere come si fa ti senti pronto iniziamo quello che sto per dirti apparentemente ha dell'incredibile ma come vedrai a breve si tratta della verità le minacce a cui siamo esposti su internet nonostante tutti i video che facciamo sono in realtà solamente due in che senso nel senso che tutto quello di cui parliamo può essere ricondotto a due grandi macro categorie la prima è il furto di password e del furto di password abbiamo parlato proprio nello scorso video e siamo arrivati alla conclusione che ormai le password per quanto complesse possano essere non rappresentano una misura di sicurezza efficace nello stesso video abbiamo visto che per fortuna al loro posto possiamo utilizzare le paschei che sono di due tipi ci sono quelle basate su smartphone che non sono affatto sicure come abbiamo visto in un video precedente e come è capitato a me stesso in prima persona e poi ci sono invece quelle basate su chiave fido 2 come questa qui che ti ho mostrato nel video precedente le chiavi fido 2 sono il massimo della sicurezza attualmente presente sul mercato ed hanno un prezzo accessibile a tutti come se questo non bastasse con una singola chiave fido 2 puoi proteggere nella maniera più efficace tutti quanti i tuoi account che siano essi gmail instagram x o twitter come vuoi chiamarlo facebook e tutto il resto il secondo tipo di minaccia a cui siamo tutti esposti è quello dei ransomware che stanno vedendo in questo periodo un escalation a livello mondiale assolutamente senza precedenti con un numero di attacchi che si incrementa di giorno in giorno ma se per quanto riguarda le password siamo riusciti a trovare una soluzione definitiva per mezzo dell'uso delle chiavette fido 2 per quanto riguarda invece i malware non c'è ancora niente di definitivo però c'è anche una buona notizia ed è questa se un malware entra nel nostro computer è solo per un motivo ovvero che gliel'abbiamo permesso noi e proprio come dicevamo in apertura di questo video sono letteralmente innumerevoli le testate di settore che parlano di questa notizia al primo posto questa mattina sia a livello nazionale sia a livello internazionale perché dal momento in cui la casa produttrice di antivirus che si chiama trend micro ha lanciato l'allarme questo è stato recepito immediatamente ed ha avuto come vediamo molta risonanza html magazine titola caseica scoperto nuovo ransomware che disabilita gli antivirus ora vediamo tutto nel dettaglio ancora matrice digitale ci dice caseica ransomware usa la tattica by ovd by ovd significa bring your own vulnerable driver cioè tradotto in maniera molto maccheronica è un po una presa in giro nei confronti degli utenti e ci dice che se non abbiamo qualcosa di vulnerabile la vulnerabilità ce la portano loro in casa nostra ancora abbiamo generazione tech che titola caseica ransomware analisi dell'attacco by o eccetera eccetera e connessioni con black matter che è un gruppo ransomware molto famoso e molto esperto ancora smart titola il ransomware caseica usa driver antivirus vulnerabili per arrestare gli altri antivirus e qui la notizia riportata originariamente da trend micro che dice sostanzialmente la stessa cosa purtroppo però come vedremo tra un attimo trend micro ha fatto anche un po la furba dando la notizia ma rimanendo piuttosto avara su certi dettagli l'articolo migliore è quello che ti consiglio di leggere e ti lascerò anche in descrizione e tuttavia quello di hardware upgrade che oltre ad utilizzare un linguaggio un pochino più semplice spiega nel dettaglio come funziona questa nuova minaccia tuttavia senza andare ad addentrarci eccessivamente nei meandri tecnici ti dirò quello che ci interessa sapere in maniera molto concisa la prima cosa è che tutto quanto parte come al solito da un email di phishing ora tutti quanti noi riceviamo decine di messaggi di spam ogni giorno e ormai ritengo siamo abituati a riconoscerli a naso bene nel caso di questo malware i messaggi non sono particolarmente raffinati o insidiosi piuttosto sono messaggi sparati nel mucchio in attesa di agganciare qualche azienda perché questo è un malware che tende ad infettare prevalentemente le aziende tuttavia il fatto di sparare nel mucchio mette in serio pericolo tutti quanti noi e quindi come al solito la raccomandazione migliore che posso darti è quella di non cliccare su alcun link non cliccare su alcun allegato a meno che non siamo certissimi di conoscere il mittente della stessa mail nel momento in cui tuttavia si dovesse andare a cliccare su un link oppure su un allegato infetto quello che succederà sarà che questo malware utilizzerà una cosa che si chiama mimica per andare a prendere il controllo completo a livello amministrativo della macchina rimarrà tuttavia da sconfiggere un grosso avversario che in questo caso è l'antivirus che potrebbe andare ad inchiodarlo ed è proprio adesso che si scatenerà il nuovo tipo di attacco che si chiama BYOVD in cui verrà scaricato un driver apparentemente appartenente ad un antivirus che si chiama VIRIT che verrà visto come legittimo dall'antivirus installato sulla macchina sarà proprio questo driver invece a corrompere il nostro antivirus e a convincerlo a chiudere tutte quante le protezioni in modo da lasciare via libera al ransomware questo andrà a crittografare tutti quanti i dati presenti sulla macchina e chiederà un riscatto assolutamente senza senso quello che leggiamo nell'articolo infatti è che negli episodi di attacco osservati da Trend Micro la richiesta di riscatto è stata di 50 bitcoin che in questo caso ammontano a circa 50 milioni di dollari che andrebbero per di più pagati entro 72 ore e ogni 24 ore di ritardo costano ulteriori 500 mila dollari. Ridiamo per non piangere ma comunque le vittime ad avvenuto pagamento dovranno pubblicare uno screenshot del pagamento stesso su un gruppo telegram privato in modo da ricevere lo strumento che consentirà di decrittare i file. Insomma come dire meglio non prenderlo questo malware. Ma come comportarsi nel caso in cui si abbia il sospetto di aver commesso un errore e di aver cliccato ad esempio sull'allegato sbagliato? Bene la prima cosa da fare è spegnere la macchina magari anche brutalmente ma comunque velocemente e portarla prima possibile dal proprio tecnico di fiducia. Tuttavia ti ricordo che prevenire è sempre meglio che curare e quindi il consiglio è sempre lo stesso e cioè quello di avere un backup costantemente aggiornato su un'unità esterna che dovrai tenere rigorosamente disconnessa dalla tua macchina anche perché questo ransomware ha la possibilità di spostarsi e trasmettersi agli altri dispositivi presenti sulla rete locale. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti per Alex Lux che ha elevato il suo abbonamento a Distinto Gentiluomo e quindi ancora una volta senza cilindro reale ma con il cilindro virtuale mi tolgo il cappello davanti a te e da Alexandre Sousa che spero stavolta di aver pronunciato bene visto che me lo ha insegnato lui nei commenti che ha rinnovato il suo abbonamento. Vi ringrazio infinitamente come sempre a nome mio e di tutta quanta la community per il vostro supporto al canale ma l'ultimo ringraziamento lo sai bene è sempre quello destinato a te che hai seguito questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento come di consueto alla prossima! no 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 Grazie.